Mi sono domandato insomma cosa potevo raccontare e sono andato alla conclusione che la cosa più onesta che può fare un giornalista e nel mio caso un giornalista di date è quello di raccontare un po partire dalla sua storia è la cosa più sincera più autentica allora io sono un giornalista del sole 24 ore sono nato finanziario mi sono trasformato in tecnologo ricordava Saladino giustamente il mio percorso in nova che tuttora sono nella redazione di scienze di tecnologia poi il fatto di aver un po girato nel senso che ho avuto la possibilità di andare a visitare i centri dove nasce l'innovazione sono stato un po negli stati uniti un po in cina un po anche in europa che qualcosa di buono ce l'abbiamo insomma mi ha permesso di non dico di aprire la mente però insomma ho conosciuto da vicino gli innovatori anche Steve Jobs l'ho visto piccolo così però insomma li ho visti da vicino ho visto da vicino nei posti dove in un qualche modo si immagina il futuro e questo ha coinciso con un malessere privato personale un malessere che racconto in un numero nel 2000 il 75 per cento delle informazioni era raccolto su carta nel 2013 13 anni dopo questo diventa il due per cento nel 2021 siamo intorno all'uno per cento che cosa vuol dire vuol dire che un mondo dove anche il giornalista aveva delle sue certezze la carta no quelle certezze oggi tra l'altro è anche il giorno in sole 24 ore lancia il nuovo formato lasciatemi fare un mini spot per cui è un formato bellissimo andate ne dico a comprarlo però insomma c'è stato un mondo in cui l'agenda informativa delle persone era legata al formato alla pagina del giornale con internet questa gerarchia di argomenti esplode per cui tutti quanti adesso andiamo sul sole 24 ore online cioè riusciamo ad accedere a fonti di informazioni in maniera più ampia ed è una cosa bellissima però cosa crea crea una crisi identità mostruosa nel giornalista che prima bene o male viveva in una sorta di gabbia dorata sapeva che se scriveva lì dentro era al riparo da qualsiasi tipo di concorrenza oggi i giornalisti sono in concorrenza con i blogger con gli influencer siamo in concorrenza con tutti ed è giusto e bene che sia così tanto che questo è stato il personaggio che mi ha detto ma mi ha spinto a diventare quello che sono oggi un giornalista di dati lui non so se lo conoscete magari lui non lo conoscete ma lui lo conoscete sicuramente lui è arper reed ed è l'uomo diciamo dei dati del primo barack obama allora dovete sapere che quando è stato letto la prima volta barack obama non aveva un colore della pelle che aiutava e non era neanche un cognome che aiutava ma aveva alle sue spalle quest'uomo qui che è un informatico e un ingegnere il quale si è occupato di fare una cosa che oggi fanno tutti i politici negli stati uniti sia micro targeting cioè che cosa ha fatto ha analizzato tutti i titoli e tutti gli articoli dei giornali locali dovete sapere che negli stati uniti il giornale locale è estremamente locale cioè racconta dal gattino che scappa e va sull'albero e arrivano i i vigili del fuoco lo salvano cioè ha una capacità di interpretare i micro avvenimenti delle città questo che cosa vuol dire che di fatto sono una cronaca perfetta dei disagi e di quello che non funziona che cosa ha fatto questo ingegnere ha screpato usa una parola cioè ha preso il titolo di questi giornali e li ha geolocalizzati o ha geolocalizzato l'informazione di questi titoli sulla singola strada perché perché analizzando le parole dei titoli è stato in grado di capire quali fossero i problemi strada per strada zona per zona strada per strada oggi all'epoca zona per zona città per città questo ha permesso a che cosa la macchina dell'elettorale di barack obana di alzare il telefono sapete come funziona la che hanno questi immensi call center dove raggiungono l'elettore al telefono e dicono buongiorno siamo dei supporter di obama o di di clinton o di trump vogliamo presentarvi il nostro candidato invece di presentare il candidato gli dicevano guardate che noi sappiamo che da voi il problema scusate un secondo che arrivo subito sto prendendo sto prendendo spunto dal 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 andando via la corrente di sta un black out allora guardate che il problema nella sua strada è per esempio l'ambiente la criminalità è una cosa piccola o può essere semplicemente la presenza di immigrati oppure la presenza di altro genere per cui sapevano esattamente quello che accadeva in quella singola strada questo chiaramente non è stata la motivazione principale della vittoria di Barack Obama però ha aiutato l'utilizzo dei dati per la politica questo è un altro signore si chiama Lassero Barabasi tra l'altro è nato in Transilvania ed è un ricercatore un fisico ha vinto un numero molto alto di premi e lui sostanzialmente sostiene una cosa che grazie ai dispositivi mobili che noi utilizziamo in primis i cellulari grazie alle tracce digitali che noi lasciamo sui social network eccetera noi per la prima volta siamo diventati noi come cittadini del mondo connessi e digitali ecco siamo diventati non diversi da una goccia di sangue in un vitrino cioè per la prima volta l'umanità o quanto meglio la socialità è tracciata e tracciabile questo ha permesso di vi ha permesso di elaborare una teoria della dinamica delle reti una teoria delle reti che permette di studiare il comportamento umano lui ha preso diversi premi e anche elaborato una teoria secondo cui l'evoluzione anzi la teoria della complessità applicata alle reti procede per lampi immaginate il lampo che cade ecco il suo ragionamento attenzione che questo può essere un schema di interpretazione di quello che sta accadendo oggi l'azzo barabasi sta lavorando sul covid prima di lavorare sul covid stava lavorando ha lavorato negli stati uniti sulla diffusione del tumore perché la sua teoria è che non solo l'uomo in quanto entità sociale ma anche organicamente la patologia tumorale ha delle leggi che possono essere diciamo descritte dalla teoria delle reti ecco questi due personaggi sono stati un po' il motore di una riflessione personale che mi ha spinto a dire probabilmente il mestiere del giornalista deve in qualche modo non dico evolversi perché non faccio una cosa evoluta rispetto a quello che sto facendo adesso ma cominciare ad accogliere ad analizzare una fonte di notizie che fino a pochi anni era abbastanza distrattata che quello dei dati da cui il data giornalista allora quello che vedete in questa slide si chiama quello in basso a in basso quello in bianco e nero è il primo data giornalista della storia lui non era un giornalista si chiamava john snow ma non è quello del trono del di game of thron è un medico che aveva a londra alla fine dell'ottocento dovete sapere che alla fine della fine dell'ottocento si pensava che il colera fosse esattamente come il covid cioè un virus in realtà non è così si trasmette attraverso l'acqua lui che cosa fece lui fece un'operazione che oggi tutti i data giornali sanno ben chiaro cioè la geolocalizzazione dell'informazione cioè prendere delle notizie esattamente come fece arper e appiccicarle a una mappa così segnò vedete i morti nelle zone di londra preso una cartina di londra cominciò a segnare i morti di colera quello che fu evidente da un punto di vista scientifico è che morivano un po' in tutte le zone per cui morivano di colore sia ricchi che poveri sia nei quartieri benestanti che nei quartieri più poveri la la distribuzione è abbastanza uniforme per cui non c'era un discorso di nord sud est ovest tranne che per un fatto vicino alle birrerie c'erano meno morti il motivo è che vicino alle birrerie la gente beveva birra e non bere acqua josh no morì a sua volta di colera fu sfortunato però quella mappa andò in mano ai cercatori dell'università di oxford i quali poi cominciarono a elaborare una teoria sul colera e grazie a questa elaborazione arrivarono a capire che probabilmente il colera non era esattamente un virus allora quello che noi facciamo è questo cominciare a interrogare anzi provare a interrogare grandi moli di dati non solo quindi basarci su quello che dicono le fonti il politico il militare il calciatore ma anche andare a guardare la statistica che descrive il comportamento della politica il comportamento dell'economia per fare questo la chiamola la chiave che abbiamo utilizzato è quella di cominciare a scaricare i grandi dataset visualizzare i dati e cominciare a interrogarli detta così sembra complicatissima in realtà quello che ho fatto in maniera abbastanza autodidatta è stato di studiare riprendere un po in mano i libri di statistica studiare un linguaggio di programmazione e insomma cominciare a fare un'operazione un po noiosa che è quello di scaricare per esempio tutte i dati del 740 o scaricare tutti i dati del commercio elettronico per cercare di capire se lì dentro c'erano dei pattern cioè dei comportamenti che potevano essere individuati l'obiettivo di un giornalista a differenza di una data analyst non è quello poi di produrre un servizio ma è quello di avere una domanda in più da fare cioè quello che noi facciamo è interrogare grandi moli di dati perché forse da lì si possono capire delle cose o si possono domandare delle cose che non ci sarebbero mai venute in mente senza questi dati allora da lì insomma l'idea poi nel 2011 insieme a un collega del sole fondiamo un blog che si chiama infodata che esiste ancora oggi e cominciamo questo tipo di ricerca oggi diciamo che in italia ci saranno 3 400 data giornalista attivi nei grandi giornaloni per cui siamo siamo diventati tantissimi tutti i grandi editori hanno una sezione più o meno ampia di giornalismo di dati adesso vi racconto per intenderci alcune cose che facciamo ma prima di farvi raccontarvi un po di esempi di geocoding e tutto quanto vi spiego perché insomma siamo amici anche e ci occupiamo tanto digitale perché insomma nell'ultimo anno come avete visto i dati sono diventati un una veramente una ascissa dell'informazione estremamente importante pensate a un fatto per la prima volta nella storia della repubblica il nostro comportamento cioè la nostra libertà civile sono in qualche modo decise da 23 parametri allora questo che vi sto raccontando è qualcosa che sapete benissimo no cioè i colori delle zone la zona rossa zona gialla adesso c'è la zona arancio rafforzato sono stati demandati a un calcolo matematico cioè all'analisi di dati questi dati sono ritrovati tra l'altro sull'istituto superiore della sanità sono stati racchiuse in 23 parametri poi nel tempo questi dati sono in qualche modo stati asciugati se si è dato più risalto ad alcuni indicatori piuttosto che altri adesso sappiamo che se ci sono più di 250 positivi al covid ogni 10.000 abitanti ecco allora diventa zona rossa di per cui quello è l'indicatore che comanda a insieme a quegli indicatori c'è il numero delle terapie intensive quindi la saturazione delle terapie intensive e poi c'è anche il numero dell'RT cioè per cui l'indice che va a descrivere l'RT la contagiosità ecco tutti questi indici vanno a comporre una decisione che è politica non ideologica la politica quindi non decide più in base a una visione delle cose ma decide sulla base di numeri e questo dal mio punto di vista è un grandissimo ma una grandissima cosa qual è il mio mestiere nel in una società cosiddetta data driven no nel momento in cui non solo la politica ma anche un'azienda viene a presentarmi degli andamenti sulla base dei loro dati anche un'istituzione pensate ad immuni pensate ai grafici di immuni che andavano a descrivere il numero di download o quello che andava a leggere ecco il mio compito all'interno di questo nuovo scenario non è solo quindi quello di fare delle domande ma quello di chiedere i dati e i giornalisti i data giornalisti la prima cosa che devono fare è chiedere di avere accesso ai dati non ad alcuni dati a tutti più dati noi abbiamo più siamo in grado attraverso formule matematiche la statistica nulla di complicato di interrogarli per cui è nata una sorta di battaglia attivista di apertura dei dati di richiesta ai ministeri noi abbiamo chiesto come infodata di poter avere i dati sui contagi nelle scuole abbiamo chiesto di poter aprire i dati avere tutte le informazioni della protezione civile questo l'abbiamo chiesto prima che fossero aperti infatti è iniziato un rapporto straordinario con la protezione civile che ringraziamo perché tuttora in qualche modo ci parliamo e collaboriamo sarebbe bello se l'aifa ci potesse permettere di accedere ai dati per sapere come sono andate le sperimentazioni su astrazeneca non è possibile ci fidiamo dell'organo di vigilanza chiaramente però giornalisticamente ci piacerebbe sapere che dati stanno guardando o se hanno in persesso dei nuovi dati per stare insomma sulla cronaca e capire il motivo della sospensione del vaccino quindi questa nostra battaglia vi faccio un esempio un paio di esempi di cose che facciamo qui banalmente abbiamo preso tutti i dati delle pensioni dei 13 milioni di pensionati che ci sono e li abbiamo geolocalizzati su una mappa esattamente come faceva anzi come ha fatto johnson e ci siamo accorti di cose che possono anche essere banali che però sono riprovi per esempio che la liguria è un po la florida d'italia c'è un numero straordinario di di pensionati o che ancona è la città con più pensionati magari lì c'è un tema perché ancona io non ne ho alcuna idea però quello è un dato su cui partire magari anche per capire le politiche le politiche per gli anziani della città un sindaco ha bisogno di sapere chi sono i suoi cittadini un'altra cosa che abbiamo fatto per esempio è stata quella di di screpare cioè di prendere tutti i dati dalle borse e provare a misurare che cosa se gli amministratori delegati quelli che guadagnano un sacco di soldi si meritano quei soldi per farlo che cosa abbiamo fatto abbiamo preso gli stipendi dei delle società publie publie compagni cioè delle società quotate e abbiamo provate a correlare all'andamento in borsa e vedete che poi si scoprono anche delle cose curiose per esempio vedete in seconda posizione c'è martin sorel che il capo di vpp quindi una grandissima media company poi c'è il numero uno di alfabet capo di google per intenderci ma al primo posto di questa correlazione matematica c'è tale tiani giù della massimo corporation quando sono andato in finanza e chiederemo vi conoscete la finanza del sole voi conoscete chi è chianiccio mi hanno guardato dicendo chi in realtà chianiccio abbiamo scoperto poi è un unico dipendente cui cui è amministratore capo fa tutto lui di una società che investe in borsa ha un algoritmo straordinariamente abile si occupa di asset allocation ed è per questo che insomma riesce ad avere un andamento altissimo e anche uno stupendio altrettanto alto altre cose che abbiamo fatto questi sono i dati del 5 per 1000 abbiamo preso tutti i dati dei 5 per 1000 li abbiamo divisi per settore regione province comune perché facciamo questa cosa anche perché nell'informazione diciamo attuale c'è poco spazio per i piccoli comuni sembra una banalità però di fatto per una questione anche di strategia dell'attenzione si parla sempre di milano ma delle grandi città in realtà il giornalista di dati può accedere a tutte le informazioni per cui questi sono tool che in un qualche modo aiutano anche a capire cosa succede nel piccolo comune per esempio la prima volta che siamo usciti con un lavoro di questo tipo ci hanno scritto da un paesino del siracusano da un comune del siracusano dicendo guardate che vi siete sbagliati perché tutti i soldi del 5 per 1000 secondo voi vanno ad un'associazione di rugby che non esiste in realtà i dati erano giusti l'associazione di rugby abbiamo scoperto poi che era una mezza truffa per cui insomma questa cosa ci ha permesso di 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 aiutare loro a capire che c'era qualcosa che non funzionava qui abbiamo fatto la la mappa del potere dei cd a abbiamo fatto lavori di fact checking ricordate quando c'era l'invasione degli stranieri o la politica insomma diceva siamo invasi dagli estracomunitari abbiamo calcolato il numero degli stranieri dimostrando che non c'era nessuno urgenza ed emergenza abbiamo ricreato il volto del 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 questo questo personaggio qui orrendo che vedete non è altro che il mix dei volti di tutti i premier questa è una cosa un po' nerd piacere a Saladino per cui cosa abbiamo fatto abbiamo tenuto conto del numero di giorni in cui un premier ha governato questo numero di giorni sono la grandezza da fotografia abbiamo composto questo mostro che sembra un po' craxi un po' andreotti comunque dovrebbe raccontare come si stanno volendo i volti della della repubblica va davanti la demografia di impresa e poi insomma qua sono i lavori che noi stiamo facendo e facciamo sul covid che insomma adesso rappresenta un po' il 60 per cento della nostra produzione su infodata ecco fatemi ricordare che io di fatto lavoro con uno staff di persone e queste persone sostanzialmente sono freelancer sono giornalisti del sole per insomma ehm abbiamo delle delle dei profili professionali estremamente alti giornalisti scientifici data giornalisti che ci aiutano a mettere insieme tutte queste informazioni qual è il punto di caduta eh di tutto quello che vi sto raccontando il fatto che sempre più spesso eh i giornalisti avranno un compito noiosissimo ehm che sarà quello di eh non solo basarsi su quello che ci dicono le fonti politici ma interrogare i numeri cioè chiamare i politici e la politica a rispondere di quello che dicono non sarà facile perché si entra in un territorio dove serve competenze giuridiche e competenze statistiche però ormai quello che dobbiamo fare pensiamo anche solo alla privacy e alle norme che guidano le grandi piattaforme digitali da Facebook Google eccetera ecco anche quello è un capitolo da affrontare dove c'è bisogno di giornalismo ci vuole giornalismo per andare a capire quello che si può quello che non si può dire adesso noi siamo online eh su vari canali se fossimo su Twitch per esempio eh alcune cose non le potremmo dire o dovremmo stare attenti a dirle in un certo modo perché c'è un'intelligenza artificiale che ci ascolta e potrebbe bannarci ecco tutte queste sono nuove regole del gioco che vanno capite interpretate ultima cosa sul sul futuro quello che secondo me che sto cercando di fare che mi piacerebbe fare stiamo lavorando per fare quello di provare a raccontare le notizie il giornalismo anche con la grammatica del videogioco per cui questo non me lo sono inventato io si chiamano news game si tratta di creare dei prodotti con una capacità di interattività molto alta che insomma permettono insomma un con una base dati reale per cui insomma i dati sono quelli presi dalla cronaca dall'attualità ma insomma la costruzione la narrativa è quella tipica del videogioco qual è l'obiettivo non è quello di insomma insegnare ai giovani l'attualità che è tremendo ma è quello di provare a sperimentare nuove forme di comunicazione che forse hanno un'efficienza è un impatto maggiore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti